Stale la rabbia degli olandesi contro Mosca, tre giorni dal disastro aereo e i corpi delle vittime diventati o in una questione diplomatica non sono ancora rientrati in patria. All'aeroporto di Amsterdam, dove amici, parenti delle vittime, ma anche semplici passeggeri continuano a lasciare fiori in loro ricordo, monta la protesta contro le condizioni di volo. Volo ogni settimana e spesso attraverso aree problematiche, afferma un pilota olandese. Si dà per scontato che ci sia un certo standard nei controlli, che tutto sia sicuro, ma evidentemente non è così e anche questo deve far riflettere. Credo che la reazione dei nostri politici sia stata giusta, sono stati impossibilitate a far luce su quello che è successo davvero e credo sia meglio se arrivi ad una posizione obiettiva. Il premier olandese Mark Rutte ha chiesto a Vladimir Putin di assumersi le sue responsabilità agevolando l'avvio dell'indagine internazionale, stessa richiesta avanzata a Mosca dalla Gran Bretagna. Grazie Grazie Grazie